Abbiamo fatto il resoconto al neocommissario provinciale di tutto il lavoro svolto in questi anni a Cefalù e nel territorio circostante per la Lega e abbiamo ricevuto pieno sostegno e collaborazione da parte dell'onorevole Figuccia. Sono convinto che sia il momento di dire basta a una politica locale delle istituzioni comunali che non fanno altro che ripercorrere quelle che sono le direttive, il modus operandi del governo nazionale. Sono convinto che da questo punto di vista non servono più i bonus, le mancette. Sono il commissario della Lega di Cefalù, nonché un piccolo imprenditore con case vacanza e mi stavo preparando per la stagione estiva che è andata come tutti sanno purtroppo per colpa del governo nazionale e per colpa anche dell'amministrazione locale, è andata molto molto male e stiamo cercando con l'onorevole Figuccia che siamo venuti a trovare qui a Lars di cercare di ripartire. Abbiamo affrontato degli importanti, il museo Mandra Lifica, la dimensione ospedaliera del Giglio di Cefalù e soprattutto la grande e terribile crisi economica che sta coinvolgendo tutte le attività produttive di un comprensorio che ha una vocazione culturale, di turismo relazionale che ha visto, ahimè, crollare i propri fatturati e i propri profitti. Ma la Lega si sta organizzando, lo sta facendo con scrupolo, con dedizione, impegno e lavoro e i risultati si vedranno presto.